Bella tutta Yubi, eccoci qui in questo nuovo video di LeonTube per volgere l'ultima la missione licentata di Cartono, ossia acquista un oggetto da un personaggio. Basta andare da qualsiasi personaggio e comprare. Eccolo qua, accontentato, ma ora ritorniamo a fare il nostro acquisto. Eccoci qua, fatto l'acquisto, missione superata. Potete andare da qualsiasi personaggio, dovete riuscire a fare la vostra missione. Ciao a tutti e al prossimo video!